Buongiorno amici di Turisti a Palermo, sono Mario Michalizzi, Consulente del Sinago, dello Sport, Turismo e Spettacolo e della Cultura. Oggi siamo qui a Morale per presentare i nostri tesori, oggi in particolare il Museo dell'Arte Moderna Eleonora Posavella. Oggi abbiamo ospitato dei tour operatori cinesi proprio per cercare di incentivare il nostro turismo non solo a livello locale ma a livello internazionale. Questi tour operatori hanno almeno 7 mila tour operatori sparpagliati in tutto il mondo e cerchiamo oltre al Duomo che il patrimonio lunesco-mureale dà qualche mese di far vedere tutte le nostre opere che sono presenti sul territorio. augurandoci che è stata una bellissima giornata con loro e con noi e tutto il personale della Galleria che si è messo a disposizione proprio per cercare di accogliere questi turisti nel miglior modo possibile presentando le nostre delizie oltre i prodotti tipici, anche un po' di attraggianato e i nostri B&B e tutte le strutture alberiere che sono sul territorio. Grazie e buona giornata. Grazie.